Si ferma dopo due risultati utili la corsa salvezza dell'FC Mister Bianco che comunque nonostante la sconfitta interna con la Imesi Atletico Catania per 1-3 di questo sabato rimane al momento fuori dalla mischia in attesa dell'incandescente finale di stagione che lo attende al pari per 1-1 con lo quotato Milazzo e dal rotondo e profondamente incisivo successo di Acquedolci per 3-0 e Biancazzurri ripartono dopo la pausa di Pasqua senza la pesante assenza di Gallo per lui stagione finita causa brutto infortunio al braccio destro e così Coniglio parte titolare in una difesa che Di Mauro ripresenta con Di Stefano in formato esterno sinistro più avanti Basile e l'ormai recuperato Daniele Scapellato. 13 minuti di studio al Mazzola poi l'Atletico passa per primo e lo fa con una girata aerea di Gomez su corner di Majorano e per i padroni di casa si mette subito in salita. La reazione è blanda e si manifesta solo sull'asse. Darrigo Daniele Scapellato para facile a terra vitale. I rischi invece un po' troppi a cominciare da Diallo che prima su purizione poi chiamando in causa Caruso legittima il meritato vantaggio ospite. Infine Zanella conclude non al meglio dalla distanza. Nel finale di primo tempo qualche protesta per questo contatto. Scapellato Bertolo sul cross di Darrigo l'arbitro Lazzara di Barcellona lascia proseguire. Servirà un altro FC Mister Bianco nella ripresa per prendersi la partita in mano. E così sarà. Minuto tre. Sinatra dalla bandierina la scambia con l'orefice. Crossa col compasso sulla testa di Nino Viaggio che mette dentro la palla dell'Ulopari. riscossa. Si segna un difensore nel segno del miglior approccio di questi secondi. 45 di gara e per l'esterno destro di casa è il secondo gol in campionato. Un piglio diverso più caratteriale che dura per oltre 20 giri di lancette ma senza lo spunto opportuno per ribaltare la sfortuna compresa. Qui Sinatra tutt'altro che impeccabile. Poi Di Stefano, motorino della mancina, spedisce al lato. L'unico rischio atletista è su questa fuga di Mangiameli che Caruso ipnotizza in maniera straordinaria mentre i biancazzurri ci provano in tutti i modi e si imbattono contro la mala sorte al quindicesimo quando gli scapellato offrono sul sinistro di Basile da 20 metri la palla del 2-1. Palo e addio. Sogni di gloria. Non è finita. Sul conto anche un'occasione per Dani scapellato che però su discesa di Milazzo e palla che filtra con l'aiuto di un atletista. La calcia in controtempo. Graziato Vitale che qualche minuto più tardi sul guizzo di Milazzo fa buona guardia a terra. Poi è il venticinquesimo. Attenzione a questo lancio verticale di Sinatra che viene quasi intercettato da Milazzo. A velocità normale poteva sembrare regolare l'uscita di Vitale ma vista e rivista più volte l'azione. Qualche dubbio su un possibile rigore. Ci starebbe tutto dopo che l'attaccante ha toccato per primo la sfera per poi essere travolto. È l'episodio che fa accendere la spia della riserva in casa FCM. L'atletico si prende la scena e Caruso fa il miracolo su Mangiameli servito dal neoentrato Anastasio. Dalla bandierina il d'arrigo dell'atletico è più veloce del capitano omonimo avversario. Crossa da destra e la mette in mezzo. San Giorgio indisturbato e in mezza rovesciata fa 1-2 mettendo in rete un pallone pesantissimo nell'economia dei punti in palio a 1 dalla mezz'ora. Sbilanciati i mister bianchesi incassano il colpo finale a 6 dalla fine. Gomez per Anastasio che fredda tutti da 20 metri e fa 1-3. Nel finale rimane l'amarezza da parte dei padroni di casa e qualche protesta. Qui spalla di Bertolo sul cross di Di Stefano e poi l'orefice nell'assalto finale. Sassata sullo stesso difensore ospite. Solo calcio d'angolo. L'FC mister bianco viene sconfitto e adesso tramotica fuori in casa della seconda in classifica. E poi negli scontri ultradiretti con Messana dentro e Mazzarrone fuori, in definitiva mancano tre giornate alla fine, dovrà garantirsi la salvezza senza coda play-out.